Ma noi, prima di quei 368 morti, la notte prima ne avevamo salvati 500, perché alle due e mezza di notte avevamo chiuso un servizio portando in salvo 500 persone, noi a bordo con la Capitaneria di Porto, con la Guardia di Finanza, al Molo c'eravamo tutti quella notte, ci siamo salutati alle tre contenti di aver salvato queste 500 persone e alle sette sempre gli stessi ci siamo ritrovati lì a pregare per quelli che non c'erano più.